Ultra 1, minaccia nemica minima nell'area. Ultra 1, minaccia nemica minima. Ultra 2, minaccia nemica minima. Auto marcata! Autore dei sottotitoli. ULTRA 1, attività in aumento vicino alla vostra, state in guardia. ULTRA 1, elicottero di supporto in quella direzione. ULTRA 1, minaccia nemica moderata nell'area. Deposito di munizioni qui. ULTRA 1, vi segnalo dei rinforzi nemici in arrivo. ULTRA 1, vi segnalo dei rinforzi nemici in arrivo. ULTRA 1, minaccia nemica moderata nell'area. ULTRA 1, minaccia nemica moderata nell'area. ULTRA 1, vi segnalo dei rinforzi nemici in arrivo. ULTRA 1, vi segnalo dei rinforzi nemici in arrivo. ULTRA 1, vi segnalo dei rinforzi nemici in arrivo. ULTRA 1, vi segnalo dei rinforzi nemici in arrivo. sulla tua posizione.